Un grandissimo compositore inglese, Ivor Gurney, è un ragazzo di vent'anni, è nell'esercito inglese e partecipa alla battaglia della Marne e della Somme, macelli inenarrabili, vengono usati a IPR per la prima volta i gas asfissianti. Lui è sempre in guerra e lui scrive, è anche un grande poeta, è un giovane, scrive già con il linguaggio novecentesco e scrive delle piccole cose, dei songs che sono straordinariamente intensi e di altissimo valore musicale. Grazie a tutti. 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 Dwells in shadows Do not forget In white O seven Middles Grazie a tutti Grazie a tutti